Ciao a tutti amici, TanoTV per voi! Allora, come state? Spero bene! Allora, la scorsa settimana ho messo un video di tutti i videoclip che ha messo Rosalinda Cannavò sul suo profilo Instagram e devo dire che mi è piaciuto tantissimo! E questa volta abbiamo preso delle foto di Rosalinda e Andrea Zenga, mixato come il video precedente con tanto di musica e effetti e l'abbiamo realizzato per voi! Voglio vedere se dopo il video non mettete il vostro like! Mi raccomando, intanto vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella mettere un like così vedo che ci siete e che mi sostenete e lasciate il vostro commento sotto il video! E adesso vediamo questo mix di foto di Rosalinda e Andrea Zenga! Vai! Oh yeah! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no